Abruzzo Sposi e i Trunk Show che permettono ai futuri sposi e alle spose di incontrare il loro sogno fatto abito e accessori. Cominciamo con uno sposo che si chiama? Moro Marco. Possiamo darci del tu? Sì, sì, certamente. E da dove arrivi Marco? Io sono di Celano, provincia dell'Aquila e sto qui a Pescara. Quindi sei venuto certo di trovare il tuo sogno diventato realtà? Sì, e diciamo che ci siamo quasi. Hai provato con quale atelier? Con Alta Rocca. Quindi hai provato anche tutte le forme, gli accessori possibili, l'abito, lo stile, il colore? Anche le nuove collezioni. Mi sono trovato molto bene e penso di aver capito quello che fa più per me. Che voto daresti all'atelier per il servizio che ti ha offerto? Da? Da 1 a 10? Da 0 a 10. 9. E per quello che riguarda la fiera, la struttura, le innovazioni, non so se hai visto già tutto. Diciamo che la mia seconda e mi sto trovando molto bene, quindi un 8 dai. Ti vedo divertito, quindi felice? Sì, sì. Data del matrimonio? Data del matrimonio, 7 settembre 2024. Abbiamo un po' di tempo, dai, qualche accessorio possiamo aggiungerlo? Sì, sì, sì. Anche se ci stanno dicendo che bisogna affrettare le cose. Io ero uno che se la prendeva con più calma e invece mi stanno dicendo di accelerare. Quindi anche questo tipo di consulenza serve. Grazie a te e auguri. Grazie, arrivederci.